Asso di zero, anche il 4-5. L'importante è che si è coperto qui, è avere una sciapa per respirare, per respirare l'aria calda. Facciamo fare picciclietta uno, no? E dopo c'era Bellini che faceva la sua cosa, no? No, ma dico scusa, allora dici una faula, guarda Bellini ha fatto, quando è morto Viaggi non può più trovarla lì a Berlusconi, da quella volta che avevano fatto il coro, no? La vita è bella, dico passabile, poi ha fatto Pinocchio e è stato un flop, e adesso devo vederlo ancora lì, i soldi, sì, paghiamo il cannone lì, ma con quello che conta uno che fa, anche che faccia il burrotinaio. Ma dico, no, la gente ormai, se vado io con il capellaccio così, no? Tirato giù, l'importante è che sono uscite lì scenduti, e applauso tutti, no? Perché è benissimo. Ha già, per conto mio, ha già sfardato la Divina Commedia, adesso che si mette a fardante, allora, non so io, faccia il macellaio, non riesco a capire una cosa, ma vogliono capirla, che ormai gli italiani cretini, no? Quelli che votavano tutti per loro, sono morti. I vecchi, no? Perché quelli qui votavano comunista perché erano ignoranti, no? Grazie a tutti. Gloria a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.